Ha scoperto che questi gesti sono precisamente i gesti che gli antichi dèi fanno sui vasi dipinti dell'antichità. E' esagerato o no? La domanda è quando vedo un palermitano fare un certo gesto che io parigino non capisco bene non dico che è fuori cultura, senza terreno culturale, dico che devo trovare questo terreno culturale. C'è il terreno culturale. Tutti i miei amici romani dicono la stessa cosa, dicono che Roma è distrutta, sta per essere distrutta. Oggi è distrutta. Allora io quando torno, allo stesso tempo la vedo. Allora io quando torno, allo stesso tempo la vedo. Grazie a tutti